Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi diciamo che inauguro la prima vera e propria puntata della serie dedicata al fantasy lo scopo di questa serie è quello di fare un'esplorazione sia delle tematiche recorrenti, dei vari sottogenere come essi si sono sviluppati nel corso del tempo oltre che un'ottima scusa per consigliarvi serie classiche, serie un po' più vecchie eccetera eccetera per poter effettivamente fare un discorso molto più ampio attorno al genere perché forse parlare di fantasy per chi non è un amante, per chi non lo conosce molto bene probabilmente vuol dire poche cose insomma per tantissimi il fantasy significa o Harry Potter o il Signore degli Anelli o Twilight e in realtà è molto limitante e quindi visto che comunque il tema principale del mio canale è proprio l'approfondimento del fantasy oggi ci troviamo ad affrontare il primo genere che ho selezionato tra le varie cose volevo partire con qualcosa di un po' più leggero e non partire direttamente da cose un po' più impegnative anche se secondo me così tanto meno impegnative non lo sarà e infatti il tema di oggi come avrete già ovviamente letto dal titolo e dalla sigla è lo steampunk cercherò di dividere tutto in maniera molto schematica in modo che ogni puntata si assomigli in modo da fare proprio delle vere e proprie schede per genere e per potervi dare dei suggerimenti in maniera abbastanza serrata ecco innanzitutto contestualizziamo un attimo che cos'è lo steampunk nato a cavallo fra gli anni 80 e 90 anzi forse è meglio dire affermatosi tra gli anni 80 e 90 la steampunk è un vero e proprio movimento culturale ed artistico è un filone della narrativa fantasy che abbraccia tante tematiche invece della fantascienza introduce nelle sue tematiche una sorta di tecnologia quasi anacronistica all'interno però di un'ambientazione storica infatti le storie steampunk introducono un vero e proprio mondo anacronistico alle volte proprio un'ucronia in cui le tecnologie e le strumentazioni vengono azionati dalla forza motrice prodotta dal vapore e infatti in inglese vapore si dice steam che è la forza energetica tipica della rivoluzione industriale e invece l'elettricità proprio come avveniva nell'ottocento e nella fantascienza ottocentesca diventa un elemento narrativo capace di ogni progresso e quindi anche di generare meraviglia ci troviamo in un mondo dove i computer sono completamente meccanici e dove ogni apparato magnetico è in grado addirittura di modificare l'orbita dei pianeti un modo perfetto per descrivere l'atmosfera steampunk viene riassunto da questa frase come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima il diciannovesimo secolo e la londra vittoriana sono l'ambientazione più ricorrente e quasi ideale delle opere steampunk e gli autori popolano la città di elementi tecnologici di automobili a vapore e di computer con i tasti in ottone e rivestiti di cuoio il termine steampunk nasce verso la fine degli anni 80 come una variante vera e propria del genere cyberpunk sembra che il termine sia stato cognato dallo scrittore di fantascienza K.W. Jitter che stava cercando un termine unico con cui poter descrivere le opere di Tim Powers cioè l'autore delle porte di Anubis James Plylock, l'autore di Omunculus e anche per le proprie come La notte di Morlock e delle macchine infernali che cosa comunava queste opere? l'ambientazione ottocentesca generalmente di tipo vittoriano che imitavano le convenzioni della fantascienza dell'epoca quindi risalenti ad autori come H.G. Wells originariamente quindi nasce come un termine per poter descrivere la fantascienza ambientata in epoca vittoriana ma steampunk nel corso del tempo è diventato un termine di uso comune per molte altre forme analoghe di narrativa fantastica ambientato anche in secoli successivi all'ottocento o in mondi diversi dalla terra ma sempre con fortissimi riferimenti al diciannovesimo secolo alla rivoluzione industriale e al romanzo fantascientifico ottocentesco dalla fine degli anni 90 l'etichetta steampunk dalla fine degli anni 90 il termine steampunk ha veramente valicato i confini della fantascienza vera e propria per essere quindi applicato ad altre forme di fantastico viene infatti utilizzato come termine per descrivere storie fantasy e anche horror oggigiorno lo steampunk è una vera e propria subcultura urbana che attinge al ricchissimo immaginario del quale abbiamo appena parlato che ha definito un vero e proprio stile dall'abbigliamento agli accessori all'immaginario di migliaia e migliaia di appassionati uno stile che mi piace definire a metà tra il punk e il gotico vittoriano riletto però in chiave industriale con i confini non sempre netti ma che lascia davvero tantissimo spazio all'immaginazione e che spinge i propri appassionati ad esplorare fino in fondo la propria creatività c'è quindi ampio spazio per cappotti estrosi per corsetti per vestiario di ispirazione ottocentesca quindi più gotica sempre similvittoriana e sempre accompagnati da una miriade di accessori dalle orologi alle fibbie agli occhiali protettivi ma che sempre aggiunge qualche dettaglio che richiama la tecnologia come ingranaggi, come bulloni come parti tecnologiche insomma ci deve essere sempre qualcosa che richiama quindi alla tecnologia messo sempre in bella vista insomma lo stile steampunk è uno stile che richiama sicuramente allo stile retro e quindi ispirazione tardo-ottocentesca al riutilizzo di una miriade di gadget all'apparenza obsoleti quindi come se fossero stati recuperati da un'epoca passata e riutilizzati in chiave moderna insomma proprio come se provenissero da un passato che non ha mai avuto luogo lo steampunk è un sottogenere del fantasy forse tra i più creativi ed estrosi che esistono è un sottogenere estremamente visivo estetico e creativo che è forse il motivo principale per cui ha davvero così tanti fan devoti e ha sviluppato una vera e propria sottocultura urbana infatti potremmo ricondurre allo steampunk tantissimi ambiti dalla moda all'architettura all'arte alla meccanica tutto ciò che fa parte del design e che ha un fascino di tipo retro di ispirazione vittoriana con una componente molto vicina alla fascinazione tecnologica e invece per quanto riguarda la letteratura lo steampunk è un genere che ha tantissime influenze e che ha creato un vero e proprio genere interdisciplinare infatti incorpora all'interno delle proprie storie generi diversi e tantissimi elementi da tanti generi diversi infatti troviamo elementi del fantasy della fantascienza del misteri del gotico dell'horror e proprio all'interno dello steampunk si distinguono due filoni principali uno è lo steampunk storico e l'altro invece è lo steampunk fantasy che è quello che poi andiamo ad analizzare oggi insieme lo steampunk storico tendenzialmente è più vicino alla fantascienza e tratteggia una sorta di storia alternativa di fatti ed eventi reali presentando luoghi e personaggi storici in un contesto in cui si immagina lo sviluppo di una diversa tecnologia lo steampunk che viene di solito elaborato come fantasy invece immagina un mondo diverso una realtà alternativa insomma un mondo del tutto immaginario spesso popolato da creature leggendari o fantastiche che convivono proprio con la tecnologia di ispirazione steampunk molto spesso però questi due generi si fondono ma parliamo di qualche tratto caratteristico e questi che vi andrò a presentare saranno proprio i punti chiave che guideranno tutti i generi del fantasy innanzitutto la magia alcuni mondi steampunk hanno la magia presente al loro interno e può essere un elemento molto potente in queste storie tuttavia in alcune storie steampunk la magia non è per nulla presente non è esistente anzi gli autori steampunk si divertono molto di più a immaginare tecnologie bislacche e un avanzamento proprio tecnologico molto più ampio anche se non plausibile che a immaginare sistemi magici allora i messaggi sociopolitici la presenza di questi messaggi è totalmente variabile infatti lo steampunk si inserisce in un contesto storico di grande evoluzione e rivoluzione sociale tecnologica e culturale quindi c'è sicuramente ampio spazio per poter inserire all'interno di queste storie anche un discorso che abbia a che fare con temi sociali e politici anzi è proprio perché spesso le storie steampunk reimmaginano e reinterpretano dei fatti storici degli eventi sociali e questo dà spazio agli autori proprio per poter anche inserire numerosi implicazioni sociali e politiche all'interno delle loro storie riguarda la caratterizzazione dei personaggi invece che è un altro punto spesso non è proprio il punto forte di queste storie anche se il XIX secolo è un'epoca fortemente costellata di personaggi forti tra menti geniali e criminali scienziati eccentrici mostre e creature di derivazione tecnologica forse il risultato di alcuni esperimenti non finiti benissimo insomma potrebbe dare tantissimo spazio agli autori per creare personaggi davvero memorabili e ben caratterizzati infatti questi hanno davvero moltissimo potenziale da offrire ovviamente queste sono tutte considerazioni in linea generale però spesso gli autori steampunk si impantanano e si perdono un pochino nella costruzione del proprio mondo evidentemente tra personaggi molto forti e costruzione infinita ed espansa dettagliata del mondo spesso vince la seconda opzione complessità della trama riguarda questo punto di solito la complessità non è proprio il punto forte dello steampunk non che sia un punto forte o meno rispetto ad altri però diciamo che il livello è basso moderato le storie steampunk infatti non sono necessariamente complesse ma anzi sono solitamente veloci hanno l'urgenza avere proprio di trasmettere dinamicità e di solito c'è qualche tipo di mistero che deve essere svelato la trama ci porta proprio verso quella scoperta tuttavia potremmo dire che uno delle maggiori pecche dei maggiori difetti di queste saghe è che avendo sempre comunque come obiettivo principale quello di costruire questi mondi super articolati molto dettagliati eccetera la trama e i personaggi passano quasi in secondo piano e nel peggiore dei casi la storia è veramente molto ferma un po' statica non è sempre così chiaramente però spesso può capitare il livello di violenza invece e di tematiche forti all'interno del genere steampunk è tendenzialmente variabile rivoluzione e mistero tendenzialmente sono le tematiche portanti del genere rivoluzione e mistero tendono ad essere portatrici di violenza all'interno del genere steampunk ma raramente sono il fulcro della narrazione in effetti forse sarà anche il periodo storico sarà il momento del positivismo più assoluto che non vuol dire essere positivi però mi rendo conto che in alcune cose comunque i toni dello steampunk sono tendenzialmente molto ottimisti e poco cupi fatta questa serie infinita di premesse direi che è il momento di passare a qualche consiglio e innanzitutto partiamo dai precursori chi sono i grandi padri dello steampunk innanzitutto non si può parlare di questo genere senza nominare Jules Verne infatti Verne è considerato insieme a H.J. Wells il padre dello steampunk e ancora prima il padre del genere fantascientifico non c'è dubbio infatti che qualsiasi tipo di narrazione di derivazione scientifica gli debba davvero molto sia nella sua forma e nell'impostazione forse sia per le tematiche che anche per il tema della curiosità della scoperta che contraddistinguono l'opera di Verne sono celebri come poche cose al mondo le opere di Jules Verne se pensiamo a 20.000 leghe sottimari viaggio al centro della terra il giro del mondo in 80 giorni dalla terra alla luna insomma nel nostro immaginario le idee di Verne la sua sensibilità i suoi chiadi fissi le sue tematiche sono diventati dei veri e propri archetipi del genere se pensiamo innanzitutto all'entusiasmo per la scoperta come dicevo già prima alla curiosità dominante e alla positività il senso positivo che si ha verso le scoperte scientifiche l'amore per l'esplorazione e per la sfida e una tematica che nel tempo è molto cambiata ed è molto evoluta nel genere soprattutto steampunk e fantascientifico comunque questa idea che la natura si debba sottomettere alla volontà dell'uomo che la sottomette proprio grazie alla propria tecnologia lo simpunk in fondo può essere considerato un genere che è un vero e proprio omaggio a Jules Verne alla sua opera alle sue tematiche alle atmosfere di un ottocento eroico vigoroso e dinamico illuminato positivo e che probabilmente non è mai esistito se non in alcuni salotti francesi dell'altissima borghesia o in qualche club londinese di gentili uomini altro padre ovviamente da ricordare mai dimenticare dello steampunk è chiaramente H.G. Wells in fondo non si può parlare di steampunk senza citarlo e senza citare il suo romanzo più famoso che è La macchina del tempo è forse l'opera che più di tutti ha influenzato questo genere e insieme allo steampunk anche diciamo al cappello più grande che va accostato al fantasy ovvero la fantascienza e che ha influenzato questa fascinazione assoluta per la tecnologia per il superamento di ciò che l'uomo può affrontare che addirittura riesce ad abbattere i limiti del tempo il romanzo di Wells viene pubblicato nel 1887 e l'autore inizia la sua narrazione parlando al passato come se tutto quello che viene raccontato nella macchina del tempo fosse accaduto sei anni prima le sue opere sebbene chiaramente il tema fantascientifico e tecnologico siano due degli elementi portanti sono in realtà uno strumento molto solido di analisi sociale e politica e morale infatti traspare la convinzione che il progresso e la scienza debbano essere funzionali a un progresso che porta un effettivo beneficio alla società e che l'uomo debba sempre ricordarsi di creare tecnologie che è in grado di controllare e di non essere mai sopraffatto dalle forze da lui create e se ci pensiamo nella guerra dei mondi H.G. Wells è stato un vero e proprio profeta perché ha descritto con decenni di anticipo gli effetti della prima e della seconda guerra mondiale ma anche della bomba atomica e so che questo sembrerà molto strano ma in realtà un altro dei capisaldi dello steampunk è Arthur Conan Doyle soprattutto per quanto si tratta del mondo perduto il romanzo infatti è una delle opere più note per quanto riguarda il filone avventuroso e fantascientifico di fine ottocento ricade infatti nella categoria di mondo perduto e che si sviluppò in tarda epoca vittoriana e che rimase molto popolare infatti il mondo perduto influenzò praticamente tutto il filone delle successive opere che narravano di queste terre perdute riscoperte con caratteristiche preistoriche e popolate da dinosauri o comunque da civiltà che non esistono più pensate che è il romanzo che è arrivato ad ispirare Jurassic Park come noi lo conosciamo di Michael Cretton e ovviamente tantissimi romanzi del genere dalla fine dell'ottocento in poi arriviamo alla ciccia quali sono i romanzi più famosi del genere o comunque quelli che hanno segnato una vera e propria svolta perché è impossibile raccontarli ed escriverli tutti questa è una grande premessa che forse dovevo fare all'inizio partiamo da una trilogia che è iniziata in realtà molto in anticipo rispetto all'affermazione del genere steampunk ci troviamo nel 1971 e incontriamo Michael Moorcock che in realtà è molto famoso per scrivere romanzi epic e high fantasy e scrive A Nomad of the Time Strings meglio conosciuta come la trilogia di The Warlord of the Air è vero che Moorcock è molto più conosciuto per genere epic high heroic fantasy ma è vero anche che ha creato una delle serie che hanno dato praticamente il via alla creazione del genere steampunk la serie di The Warlord of the Air è composta da tre volumi che seguono le avventure del capitano Oswald Bustable il personaggio ci viene introdotto con un curioso dispositivo letterario nel quale noi recuperiamo le memorie del capitano Bustable infatti racconta le sue memorie al nonno di Moorcock e nell'ultimo libro invece proprio ha lo stesso Moorcock infatti tutta la narrazione è in prima persona e ci viene proprio direttamente narrato dal protagonista ci descrive il suo bizzarro viaggio attraverso tre realtà alternative nel primo libro infatti proprio World of the Air Bustable si ritrova trasportato in una terra alternativa nel ventesimo secolo in questa terra alternativa le potenze europee non sono mai sfociate nella prima guerra mondiale e ci troviamo a seguire un impero britannico i cui dirigibili che si muovono nell'area si spostano in un regno in cui il sole non tramonta mai ma sono sempre e costantemente minacciati dall'incombere di nuovi nemici come vi dicevo anche prima il termine steampunk nasce per descrivere tra le altre le opere di Tim Powers nel 1983 esce Le porte di Anubis il protagonista è Brandon Doyle un professore che studia letteratura inglese che deve tenere una lecture su Polaridge grazie ad un viaggio nel tempo un po' pazzesco Doyle si ritrova nella Londra del 1810 dove si imbatti in una vera e propria congiura di cultori dell'occultismo che vogliono ripristinare e restaurare il potere dell'antico Egitto squinzagliando in giro per la città una serie infinita di creature molto pericolose dopo moltissime peripezie nei meandri di una Londra che definerei quasi di Kensiana popolata da mostri da donne che sono sia donne che uomini involucri che all'apparenza sembrano innocue ma che in realtà nasconde un'entità misteriose Doyle riesce a un certo punto a ritornare nel proprio tempo e a ripercorrere all'indietro tutto il suo viaggio assurdo che cerca di fermare cerca di salvare la terra riuscendo a reincarnarsi in un personaggio chiave il nostro protagonista ovviamente si ritroverà a passare un guaio dopo l'altro cercando di sopravvivere in un'epoca dove è un vero e proprio straniero The Nubis Gate ovvero Le Porte di Anubis non è sicuramente solo un romanzo di fantascienza ma anzi è un perfetto esempio di contaminazione tra generi che si intrecciano in modo spettacolare e forse per la prima volta danno effettivamente il via al filone steampunk per come lo conosciamo ma dobbiamo aspettare ancora diversi anni prima che avvenga la vera e propria consacrazione dagli appassionati di fantasy verso il genere steampunk l'opera che forse ha diffuso maggiore consapevolezza e appassionato il pubblico sia fantasy che fantascientifico verso il genere steampunk è considerata quasi sempre la macchina della realtà ovvero The Different Engine del 1990 scritto da William Gibson e Bruce Sterling i principi ispiratori della storia quasi cyberpunk di Gibson e Sterling sono qui applicati in un'età vittoriana alternativa nella quale Charles Babbage è riuscito nell'impresa di costruire un vero e proprio computer completamente meccanico chiamata la macchina analitica evoluzione della macchina differenziale che dal nome al titolo originale del romanzo anticipando di quasi oltre un secolo la rivoluzione informatica siamo nel 1855 la rivoluzione industriale è nel pieno del suo svolgimento ed è alimentata da motori cibernetici totalmente a vapore Charles Babbage perfeziona il suo motore analitico il suo computer analitico ed ha l'inizio all'era dei computer tre straordinari personaggi ci accompagnano in questa corsa folle e straordinaria avventura verso il futuro Sybil Gerard una donna caduta in disgrazia che è diventata la cortigiana di un politico molto in vista Edward Mallory detto dell'Aviathan che è un affascinante esploratore paleontologo e Lawrence Oliphant che è allo stesso tempo diplomatico un mistico ma anche una spia la loro avventura ha inizio quando trovano una scatola contenente le carte che alimentano il motore che però sono state perforate e che qualcuno sta cercando e vuole così tanto che è disposto ad uccidere la loro origine e lo scopo di queste carte è del tutto sconosciuta The Different Engine è un vero e proprio romanzo che ha conquistato per la prima volta pubblico e critica riesce per la prima volta intanto ad appassionare e ad avvicinare al genere chi si teneva anche un po' lontano quindi chiunque fosse fan di fantasy e fantascienza e allo stesso tempo a essere nominato in una serie di premi molto importanti tra cui il Nebula e il Pricks Aurora il romanzo è anche il primo ad attirare l'attenzione della critica ma anche degli studiosi verso il genere steampunk tra cui Jay Clayton che esplora per primo l'atteggiamento verso l'hacking così proprio come la sua reinterpretazione e l'atteggiamento nei confronti di Babbage e Ada Lovelace due figure storiche chiaramente reali e che sono presenti nel libro e anche Herbert Sussman si interessa dal punto di vista letterario a quest'opera tanto che dimostra come il libro sia in realtà la riscrittura del romanzo Sibyl di Benjamin d'Israeli del 1845 e Brian McHale lo collega all'interesse postmoderno nel trovare un nuovo modo di fare la storia nella narrativa nel 1995 esce Steampunk di Paul De Filippo che si è in possesso del nome che ormai viene attribuito al genere e nello stesso anno ci troviamo ad assistere a uno dei casi letterari più ecleatanti del genere invece per ragazzi esce infatti la bussola d'oro di Philip Pullman e ne seguirà la trilogia di queste oscure materie ci troviamo in un universo parallelo e seguiamo la storia di Lyra che vive al Jordan College di Oxford il mondo di Lyra però è molto diverso dal nostro oltre l'oceano c'è l'America ma lo stato più importante di quel continente si chiama Nuova Francia sull'Artico regnano giganteschi orsi corazzati lo studio della natura viene definito teologia sperimentale ma soprattutto ogni essere umano ha il suo daimon un compagno una vera e propria parte di sé sempre di sesso opposto al proprio grazie al quale nessuno deve mai temere la solitudine e che scompare nell'istante esatto in cui la persona muore ma tutto questo mondo sta per attraversare un periodo critico la vita spensierata di Lyra subisce un drastico cambiamento quando un giorno spia una riunione dei professori del Jordan riguarda una misteriosa entità chiamata polvere Toast durante la discussione viene decisa una spedizione scientifica nell'Artico malgrado siano accaduti tentativi di assassini e sparizione di numerosi bambini la bussola d'oro vabbè io poi sono fortemente legata a questa trilogia quindi qua c'è l'insert self che non c'entra niente però è un grande esempio di steampunk nella letteratura per ragazzi non mancano gli zeppelin che solcano i cieli i daimon gli orsi corazzati gli esploratori universi paralleli un'entità misteriosa chiamata polvere e la stessa bussola d'oro rappresentano tutti gli elementi di tecnologia fantastica che richiamano l'epoca vittoriana forse è una serie molto diversa delle precedenti perché i temi molto spesso si discostano da quelli del genere l'anticlericalismo spiccato lo spirito critico e la ricerca della verità sopra ogni cosa come vere e proprie bussole per i personaggi e per la propria evoluzione sono i temi portanti della trilogia di queste oscure materie opposte ovviamente al dogmatismo più cieco che nega ogni dubbio e ogni domanda quindi questa costante ricerca della dell'esplorazione questa curiosità per la scoperta lo inserisce perfettamente all'interno del genere invece nel 2000 esce invece la serie di New Crobuson che inizia con Perdido Street Station di China Meville che è proprio un perfetto esempio a cavallo tra weird fantasy e steampunk sotto le impolenti costole sbiancate di una città in rovina sorge New Crobuson una città squallida dove umani remades e razze arcane vivono nella paura perpetua del parlamento e della sua brutale milizia l'aria e i fiumi sono densi di inquinanti industriali e i ghetti pullulano di un musso di personaggi molto variabili da un mix di operai artisti spie della milizia drogati e prostitute a New Crobuson i traffici ripugnanti quelli insomma nell'ombra non sono estranei a nessuno nemmeno ad Isaac uno scienziato molto dotato ed eccentrico che ha trascorso una vita in silenzio continuando la sua ricerca per una cosa molto particolare ovvero quella sulla teoria della crisi ma un giorno Isaac viene contattato da una creatura molto rara e molto strana chiamata Garuda che è una creatura a metà tra un uccello e un essere umano che gli chiede di restituirgli le ali di trovare il modo di farlo che gli sono state amputate dalla sua tribù come punizione per un crimine che il Garuda dice che non può raccontare perché non ha un equivalente umano Isaac è stimolato da questa sfida che apparentemente è impossibile ed è innescato proprio dalla sua stessa curiosità fino a raggiungere dei livelli quasi morbosi ossessivi e anche un po' stimolato da una sorta di riverenza verso questa creatura straordinaria così tanto che però diventerà una vera e propria ossessione allora la serie di Mivel è interessante sotto numerosi aspetti il primo è prettamente politico Mivel infatti ha descritto il suo romanzo come un mondo fantasy con lo stesso livello tecnologico reimmaginato e reinventato dell'epoca vittoriana e piuttosto che essere un mondo quasi feudale è un mondo capitalista proto-industriale con una sorta di stato di polizia infame che sfrutta i lavoratori che non hanno praticamente diritti New Crobuson cioè la città dove è ambientato per Dido Street Station è una vera e propria repubblica oligarchica e autoritaria in cui coabitano sia la magia arcana che la tecnologia di impronta steampunk la logica dei suoi personaggi ma anche del concepimento del mondo in cui è ambientata questa saga deve moltissimo ai giochi di ruolo perché ha un'impronta molto simile a quella di questi monti in maniera neanche troppo velata Mivil infatti riesce a inserire in questi contesti numerosi riferimenti politici anche una critica sociale tra l'altro a proposito di critica uno degli aspetti che rendono più noti al pubblico Mivil è proprio il fatto di essere uno dei maggiori critici di Tolkien anche io ho imparato a dire Tolkien anche se ho sempre detto Tolkien critico in senso negativo infatti dice di lavorare per allontanare il fantasy dalla sua influenza che trova piccola borghese e reazionaria una volta è anche arrivato a descrivere Tolkien come la gallina che poggia il culo sulla letteratura fantasy aducendo che il contributo forse maggiore di Tolkien alla letteratura fantasy e ciò che è al centro della vera rivoluzione da lui compiuta non sono in realtà tanti aspetti per cui viene riconosciuto ma il fatto di avere costruito un mondo secondario in maniera sistematica con regole precise che segue queste regole in maniera ossessiva e quindi in pratica Tolkien ha inventato ciò che poi viene trasposto nei giochi di ruolo ecco e niente però non siamo qui a criticare Mivil perché criticava Tolkien detto ciò passiamo finalmente all'ultimo romanzo del quale parliamo oggi ovvero la trilogia del Leviatano di Scott Westerfield è uscita nel 2005 iniziata anzi direi nel 2005 siamo in procinto della prima guerra mondiale e tutte le potenze europee si stanno armando le fazioni sono praticamente due gli austro-ungarici e i tedeschi hanno i loro cigolanti macchine di ferro alimentate a diesel e armate con pistole e munizioni invece dall'altra parte troviamo i darwinisti britannici che hanno costruito praticamente delle macchine dei veri e propri animali che impiegano animali fabbricati come vere e proprie armi e macchine il loro Leviatano è un dirigibile a forma di balena ed è la bestia più magistrale di tutta la flotta britannica e l'anno 1914 il principe austriaco Alexander ha appena saputo che i suoi genitori sono stati assassinati e invece che avere il tempo vero e proprio per elaborare il lutto è costretta a fuggire dal suo paese con solo una manciata di uomini a lui fedeli la sua stessa gente si è rivoltata contro i suoi genitori e automaticamente contro di lui il suo titolo ormai è inutile tutto ciò che gli è rimasto è una potente macchina da guerra e un manipolo di uomini dall'altra parte invece Dennis Sharp è una ragazzina comune travestita da ragazzo nel British Air Service ovviamente si finge un ragazzo per poter essere assoldata nell'aviazione è una brillante pilota ma il suo segreto la minaccia costantemente e rischia sempre di essere disvelato con l'arrivo della prima guerra mondiale i percorsi di Alec e Darren si incrociano in maniera inaspettata portandoli ad un'avventura fantastica in giro per il mondo che cambierà entrambe le loro vite per sempre in questa opera di Westerfield diciamo che l'ambientazione retro si amalgama con il futurismo lo steampunk eccetera che arricchiscono la storia cioè gli eventi storici di particolari molto fantascientifici e fantasiosi Westerfield nel romanzo approfondisce soprattutto la fazione darwinista ovviamente facendo ovviamente un netto un netto confronto tra i buoni britannici e i cattivi austro-ungarici germanici schierandosi idealmente ovviamente dalla parte dei darwinisti infatti si avvicina più a questa fazione proprio perché vengono tacciati di essere dei senza dio e quindi perseguitati da chi li etichetta in questo modo affrontiamo infatti spesso il tormento di un soldato tra fare ciò che ritiene giusto e seguire invece gli ordini ciecamente le problematiche di genere ma anche gli stereotipi che contraddistinguono una nazione e le persone che fanno parte di una certa popolazione però ci troviamo anche a affrontare tanti temi come il coraggio la tecnologia contro la natura il superamento anche delle probabilità stesse la redenzione l'accettazione della perdita e anche quello della lealtà un tema importante nell'opera di Westerfield è proprio quello dell'accettazione del libero pensiero e del mettere in discussione l'autorità quando si ritiene che stia sbagliando quindi il pensiero critico nuovamente The Leviathan in fondo è una storia di crescita molto avventurosa intraprendente e dinamica che tratta dell'evoluzione verso l'età adulta ma anche di molto altro e con questo è finita questa prima eterna puntata sul tema dello steampunk e niente io vi ringrazio innanzitutto per essere durati tutto questo tempo spero di aver fatto una sorta di approfondimento generale che racconti le tematiche principali di questo filone ma che riesca anche a toccare alcuni punti chiave sia tematici che diciamo storici potremmo dire che hanno contraddistinto lo steampunk all'interno del genere a cappello che è il fantasy ovviamente io non posso raccontare tutte le opere che fanno parte di questo genere perché staremo qua 70.000 ore e diventerebbe un elenco inutile il mio è un percorso tematico e non solo quindi spero che comunque sia risultato una puntata interessante e spero di poter aver dato a chi magari non è ferratissimo nel genere steampunk una serie di consigli suggerimenti eccetera per iniziare a muoversi all'interno di questo mondo e capire se può fare o meno al caso vostro visto con degli occhi ovviamente in maniera un po' più critica rispetto al solito niente io essendo questa la prima puntata diciamo vera e propria della serie ci terrei tantissimo a sapere cosa ne pensate se è risultato interessante se è qualcosa che vi piace seguire se i prossimi consigli possono fare per voi e niente vi ringrazio ancora nuovamente per essere sempre qui insieme a me a resistere in questi video eterni e io direi che ci vediamo presto per questa serie per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao